Il fine settimana del 6, 7, 8 marzo, la cantina del Tavano dei Catticomestri, ci sono tre spettacoli diversi. Venerdì 6, sempre abbiamo 21, tutti e tre, venerdì 6 presentiamo un'altra volta la nostra produzione della stagione passata, l'Onorevole di Leonardo Sciascia, uno spettacolo che parla di politica, di rapporti della politica con la Chiesa, con la mafia, uno spettacolo che ha ottenuto un buon successo nella stagione precedente e sta continuando ad averne per ora. Sabato 7, La Tenda Rossa con Luigi Abert, prodotto dalla associazione Narramondo, uno spettacolo che racconta la vicenda del dirigibile Italia, comandato da Umberto Nobile che precipitò al Polo Nord e la drammatica storia del suo corso, che seguì. Domenico 8, invece, spettacolo speciale dedicato alle donne, essendo la festa della donna che manteniamo nel mistero.